Ben ritrovati su Sicilia 24, nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo parlando di Cronaca e partendo da Caltanissetta dove la polizia ha denunciato due diciottenni. Vediamo perché. I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale procura della Repubblica due diciottenni. Il primo per il reato di furto aggravato di un motociclo e il secondo per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. I due giovani sono rimasti coinvolti in due diversi incidenti stradali nello stesso giorno. Nel primo caso, avvenuto nel pomeriggio, un diciottenne è rimasto coinvolto in un incidente autonomo. L'equipaggio della volante di zona lo ha soccorso e dopo il controllo ha accertato che il giovane poco prima aveva rubato il motociclo che si trovava parcheggiato sulla pubblica via e dopo essersene impossessato ne ha perso il controllo rovinando a terra. Gli agenti hanno sequestrato il mezzo e condotto il giovane in questura. Oltre alla denuncia penale, i poliziotti hanno sanzionato il diciottenne per la violazione amministrativa di guida senza patente. Nel secondo caso, invece, avvenuto in tarda serata, il diciottenne, alla guida della propria autovettura, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un ciclomotore condotto da una ragazza. Il giovane è risultato positivo all'esame tossicologico per l'assunzione di cannabinoidi. Cambiamo argomento, parliamo di maltempo, partendo da Ragusa, dove una bomba d'acqua ha colpito la città e gli altri centri della provincia. Allagato anche il pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario, mentre sono state bloccate le attività di pronto soccorso, i ricoveri programmati e tutte le attività inerenti all'emergenza. Le forti piogge stanno provocando disagi e danni in tutta la città, con strade letteralmente trasformate in fiumi. Maltempo anche a Trapani, dove la situazione resta particolarmente complicata. Le intense piogge che sono cadute nella notte hanno appunto creato situazioni di estremo disagio in città, come potete vedere anche da queste immagini. Molte strade e piazze sono allagate e diverse abitazioni al piano terra, negozi e uffici sono stati invasi dall'acqua. Maggiormente colpite le zone di Via Virgilio, Piazza Martiri d'Ungheria e la zona industriale, dove molte auto sono rimaste in panne, semisommerse dall'acqua. Il sindaco Giacomo Tranchida ha disposto la chiusura di uffici e luoghi pubblici. Anche a Erice, strade allagate e crolli di muretti vicino alla scuola Pascoli. Il sindaco Daniela Toscano ha chiuso le scuole e invitato i cittadini a non uscire di casa fino alla fine dell'emergenza. Disagi poi in tutta la provincia, anche a Marsala ad esempio, molte strade sono allagate. Ci spostiamo nel Siracusano, continuiamo a parlare di cronaca. I carabinieri della stazione di Sortino hanno arrestato un 55enne per lesioni personali aggravate. Nella notte tra sabato e domenica, l'uomo, che non ha accettato la separazione dalla moglie, si è recato presso l'abitazione della donna, tentando di entrare con la forza. La donna, impaurita, ha chiamato i carabinieri che sono subito accorsi e l'hanno trovata ferita al volto perché l'ex marito l'aveva colpita con una sbarra di metallo. La vittima è stata trasportata in ospedale mentre l'uomo è stato arrestato e tradotto ai domiciliari presso l'abitazione di un parente, così come disposto dall'autorità giudiziaria di Siracusa. E ora è la Covid, andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute. Sono 779 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 8.047 tamponi processati. Tasso di positività al 9,7% e Sicilia all'ottavo posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 22.450, i nuovi guariti invece 965. C'è anche un'altra vittima e quindi l'acconto totale dei decessi in Sicilia dall'inizio della pandemia sale a 12.193. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 184, 3 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono invece 12, in questo caso lo stesso numero del giorno prima. Per quanto riguarda infine i dati a livello provinciale, stavolta nell'ultimo bollettino è Catania, la provincia con il maggior numero di nuovi casi, 176. Poi Palermo con 166, quindi Messina con 153 nuovi casi Covid e poi le altre province con dati più bassi, ad esempio Siracusa 117, ma anche Enna con appena 10 nuovi casi Covid. Questi dunque i dati dell'ultimo bollettino, lo ripetiamo, il bollettino di ieri domenica 25 settembre. E ora la politica con le elezioni politiche e regionali. Partiamo dalle elezioni politiche perché oltre ai vincitori ci sono anche gli sconfitti. Allora stamane ha parlato ad esempio il segretario del PD Enrico Letta, faremo un'opposizione dura e intransigente, ha detto Letta, gli italiani e le italiane hanno scelto una scelta chiara e netta, hanno scelto la destra, il governo avrà un governo di destra, ribadito Letta. Oggi è un giorno triste per l'Italia e l'Europa. Questa legislatura sarà la più a destra, è un rammarico profondo ma anche uno stimolo a continuare a lottare. Nei prossimi giorni riuniremo gli organi di partito per accelerare il percorso che porterà a un congresso. Queste le parole di Enrico Letta per il quale qualcuno prospetta le dimissioni, quindi vedremo come si evolverà questa situazione in casa PD. Ovviamente ieri ha parlato Giorgia Meloni, la grande vincitrice di queste elezioni. È il tempo della responsabilità, ha detto la leader di Fratelli d'Italia, il tempo in cui se si vuol fare parte della storia si deve capire quale responsabilità abbiamo verso decine di milioni di persone. L'Italia ha scelto noi e non la tradiremo come non l'abbiamo mai tradita. Il fatto che Fratelli d'Italia sia il primo partito, ha aggiunto la Meloni, significa tante cose. Questa è sicuramente una notte di orgoglio, riscatto, lacrime, abbracci e sogni, ma quando sarà passata la notte dovremo ricordarci che non siamo a un punto di arrivo ma di partenza e da domani dobbiamo dimostrare il nostro valore. Per quanto riguarda ancora gli sconfitti, possiamo definirli così, ma anche oppure i bocciati, ecco parliamo di bocciature, c'è quella certamente di Stefania Prestigiacomo, ex ministro, candidata al Senato nel collegio plurinominale, a sorpresa la Prestigiacomo esce di scena. La candidata di Forza Italia infatti dopo 28 anni trascorsi ininterrottamente in Parlamento non potrà sedere tra gli scranni di Palazzo Madama. Eletta nella 94 alla Camera, poi nel 2001 nominata ministro per le pari opportunità, nel 2008 ministro dell'Ambiente. Il suo partito l'aveva candidata alla presidenza della regione siciliana, certamente lo ricorderete, ma dopo il tweet contrario proprio di Giorgia Meloni il suo nome era stato abbandonato a favore del collega di partito Renato Schifani. E allora con la notizia sulla Prestigiacomo ci fermiamo un attimo per quanto riguarda le politiche, introduciamo il discorso relativo alle elezioni regionali, ricordando che siamo ancora con gli exit poll, ma andiamo a vedere i dati sull'affluenza in Sicilia, in questo caso sia per quanto riguarda le regionali che per quanto riguarda le politiche. Cominciamo dalle regionali, in Sicilia ha votato il 48,62% degli elettori, nelle precedenti elezioni regionali erano state invece 46,75 nel 2017, quindi c'è stato un incremento di circa due punti percentuali, ma comunque si tratta di una stensione importante, hanno votato solamente 2.249.000 e rotti elettori rispetto agli oltre 4.627.000. Messina è la provincia con la maggiore affluenza, 53%, Enna invece quella con la minore affluenza, 39,99%. Per quanto riguarda invece le politiche, in Sicilia ha votato il 57,35 degli elettori, nel passata tornata elettorale era stato il 62%, quindi in questo caso c'è stato un decremento. Messina resta la provincia con la più alta affluenza, oltre il 62%, Ragusa invece quella più bassa con il 52,7%. E allora entriamo nel dettaglio delle regionali, come detto parliamo ancora di exit poll, visto che lo spoglio comincerà nel primo pomeriggio. I risultati del voto in Sicilia sostanzialmente confermano l'andamento del voto nazionale, quindi la vittoria di Renato Schifani, il centrodestra, sembra essere scontata, in base come detto agli exit poll, il candidato della coalizione di centrodestra viene dato con una forchetta compresa tra il 37 e il 41%, una percentuale superiore di circa 13 punti rispetto a Cateno De Luca. L'ex sindaco di Messina e leader di Sicilia Vera viene invece accreditato con un risultato compreso fra il 24 e il 28%. Soltanto terza invece Caterina Chinnici, lei appoggiata dalla PD e dalla lista dei 100 passi di Claudio Fava. L'eurodeputata avrebbe tra il 15,5% e il 19,5%. Quarta piazza invece per Nuccio Di Paola del Movimento 5 Stelle tra il 13 e il 17%, nonostante comunque grandi consensi avuti da Giuseppe Conte durante il suo tour elettorale nell'isola. Molto molto indietro invece gli altri candidati, ovvero Gaetano Armao, vicepresidente attuale uscente della regione, lui in corsa per il terzo polo di calenda, male anche la rappresentante del Movimento Siciliani Liberi, Eliana Esposito, sono entrambi indicati tra l'1,5% e il 3,5%. Queste dunque, come dire, i dati virtuali sull'elezione regionale più complessa invece l'analisi per quanto riguarda le politiche dove il Movimento 5 Stelle si afferma invece come primo partito in Sicilia con percentuali che variano tra il 27 e il 30%, qui ovviamente i dati sono invece certi. Questo grazie all'impegno in campagna elettorale nelle piazze siciliane, lo dicevamo prima, del leader Giuseppe Conte. Comunque bene anche Fratelli d'Italia che è dietro di circa 10 punti rispetto al Movimento 5 Stelle ma conferma in Sicilia la sua forza elettorale come primo partito del centro-destra. bene anche Forza Italia che ottiene un risultato superiore a quello del resto d'Italia, quindi la Sicilia resta un bacino importante di voti per Forza Italia, siamo intorno al 10%, crolla invece così come a livello nazionale il PD, un vero e proprio tracollo superato in alcuni collegi anche da Sicilia Vera di Cateno De Luca. Andiamo adesso invece a fare velocemente il punto per quanto riguarda le politiche, dunque le elezioni nazionali, facciamo il punto su Camera e Senato. Partiamo dall'affluenza, quindi il dato generale in Italia che è stato del 63,91% degli eventi diritto ed è un dato molto negativo, il dato più basso mai registrato in Italia nelle elezioni politiche. Il centro-destra come detto stravince, 44,4% al Senato, con Fratelli d'Italia primissimo partito oltre il 26%, trascina la Lega oltre l'8%, Forza Italia 8,27%, dunque male la Lega di Salvini, più tardi magari sentiamo le dichiarazioni dello stesso Salvini in merito ai risultati in Sicilia, un Salvini che alla fine sembra anche abbastanza soddisfatto. Tracollo del centro-sinistra, siamo sempre al Senato, 26,03%, col PD al 18,97%, Movimento 5 Stelle al 15,50%. Per quanto riguarda la Camera invece è sempre molto davanti il centro-destra con oltre il 43%, Fratelli d'Italia oltre il 26%, dunque si conferma questo dato molto importante per Giorgia Meloni, la Lega all'8,80%, Forza Italia invece all'8,10%. I numeri della centro-sinistra alla Camera, 26,19% con PD che non arriva, dunque non arriva il PD alla soglia del 20%. Il Movimento 5 Stelle invece si ferma al 15,35%, ma si conferma comunque il terzo partito in Italia dietro a Fratelli d'Italia e PD. Questi dunque sostanzialmente i dati per quanto riguarda le elezioni politiche. Noi intanto ci fermiamo qui, ci rivediamo più tardi, ovviamente vi daremo ulteriori aggiornamenti soprattutto sulle elezioni regionali. Intanto chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia, ma rinnoviamo l'appuntamento. A più tardi, a dopo.